Allora, qua abbiamo un altro signore che rappresenta il vino. Chi abbiamo? Sono Tiziano, Tiziano Castaniedi, uno dei quattro fratelli titolari dell'azienda agricola Tenuta Sant'Antonio che oramai ha raggiunto i nostri primi vent'anni di età, proprio esattamente l'anno prossimo. Nostra prima etichetta, 95, e quindi siamo molto molto contenti di essere qui ancora una volta in questo territorio tedesco ad appoggiare tutte le iniziative che Andronaco da tanti anni ormai sta proponendo. Dove venite dall'Italia? La zona si trova a Verona, Verona Est in modo particolare, e siamo a cavallo fra le due aree credo più importanti appunto del veronese, da una parte i Soave per i vini bianchi e dall'altra la Valpolicella per i vini rossi. Una collina sostanzialmente che misura 350 metri di quota, dove nel fondo valle si producono vini bianchi, come dicevo appunto per i Soave, e in quota i vini rossi. E i due nostri, diciamo, prodotti più identificativi dell'azienda, se volete ve li presento. Il primo si chiama Skaia, e ripete un po' quello che nel gergo comune indica la fetta di formaggio, che rappresenta appunto la forma e lo scheletro dei sassi che ci sono presenti nella nostra collina. È ottenuto da Garganega, la base appunto del Soave, con un taglio di Chardonnay. Un vino che gioca tantissimo sulla complessità e l'intensità aromatica. Un vino che subito d'impatto avvolge e attira appunto il consumatore ad un continuo consumo e piacevolezza. L'altro invece che credo essere il più rappresentativo della Valpolicella, anche se in realtà non è il vino più vecchio, è appunto l'Amarone. Amarone, vino rosso veneto secco ottenuto da uve passite. Per ottenerlo ovviamente bisogna utilizzare le cinque tipologie di cultiva previste dalla disciplinare e un 10% di varietà sempre autoctone, a bacca rossa di Verona, non aromatiche, dando la possibilità appunto a noi produttori di poterselo personalizzare, senza però abbandonare quella che è l'identità specifica appunto dell'Amarone, il sapore e i profumi della ciliesa. Ti va di raccontarci com'è nata la collaborazione con Andronaco? Ma Andronaco è stata veramente fortuita per certi versi, in quanto noi volevamo entrare in questo mercato tedesco e lui essendo un portavoce ormai storico dei prodotti italiani nel nostro territorio, ci ha voluti insieme, ci ha messo a suo fianco e credo veramente di doverlo oggi ringraziare tantissimo perché insieme abbiamo raggiunto, credo, risultati importanti e soddisfacenti, presumo per entrambe, per noi sicuramente sì. Da quanti anni di preciso? Saranno una decina di anni abbondanti. Allora io ti ringrazio e ti auguro un buon lavoro. Grazie a voi, salute a tutti e arrivederci a presto. Grazie.